Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la notizia di un incidente mortale che si è portato via, io in la vita, di un giovane padre, ci racconta tutto Chiara Sadotti. La presente è quando casca un ponteggio metallico, boom, in quella maniera e poi si vede il lampeggio delle macchine. Ancora sangue sulle strade dell'Aretino, ancora uno schianto fatale nel quale ha perso la vita un 33enne. È successo ieri sera, lungo la circonvalazione di Terra Nuova all'altezza del Bivio per Poggio Orlandi, l'uomo era alla guida di un Audi A6 quando l'auto uscita fuori strada ha urtato il garrail e il muretto che delimita la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Il 33enne è stato estratto dai pompieri dall'abitacolo, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, le lesioni purtroppo erano troppo profonde, il giovane è morto poco dopo. Quanto è pericolosa questa strada? Tanto, tanto perché è quella, guardi, guardi la macchina lì. Quella è la villano che è la corsia di sorpasso, in realtà è quella che dovrebbe servire a noi per immettersi. È una strada che la sua curva tende, è una curva che si sta in salita, tende a buttare fuori, quindi si leva forte. Spetterà adesso ai carabinieri esaminare la dinamica e ricostruire le cause del terribile impatto. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone. In meno di tre anni è il terzo incidente mortale che si verifica lungo la circonvallazione di Terra Nuova, Bracciolini. Dal 27 gennaio è il quinto incidente, due molto gravi, fortunatamente il precedente, il conducente si è fatto solo dei graffi, è andata bene. Ieri sera è andata così, poi c'è stato dei incidenti più piccoli, ma insomma è... Sospesa la licenza del bar My Way di Corso Italia ad Arezzo a deciderlo è stato il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo che ha emesso il provvedimento con validità proprio da oggi, venerdì 3 marzo e per 10 giorni. Il locale spiega in una nota ufficiale la questura era stato oggetto di numerosi interventi effettuati dal personale delle volanti della questura del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Arezzo. in seguito ad episodi che si sono verificati a cavallo della fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno e che hanno avuto gravi ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica. Alla base della decisione le continue frequentazioni da parti di giovani e giovanissimi gravati da precedenti penali tra cui anche i membri della ormai nota baby gang. è crollata una vasta porzione dell'intonaco della copertura del parcheggio per biciclette alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarmo. A segnalarlo sono stati i pendolari, nessuno per fortuna è rimasto ferito e il personale della rete ferroviaria italiana, titolare dell'infrastruttura, ha transennato l'area. Il parcheggio era stato inaugurato appena tre anni fa. Non nascondo che martedì dopo la sentenza di condanna ad un anno a mio carico ero frastornato ma sinceramente un po' me lo aspettavo. Roberto Bardelli, consigliere comunale sospeso dalla sua carica dopo appunto la sentenza di primo grado per la vicenda Coingas Multiservizi, affida ai social le sue riflessioni proprio dopo alcuni giorni appunto dalla sentenza e soprattutto rispetto al fatto che in questi giorni ci sono stati tantissimi messaggi di solidarietà nei suoi confronti, l'ultimo questa mattina proprio con questo striscione. È da martedì pomeriggio, scrive che ho un continuo via vai al distributore, lui ovviamente è titolare appunto di questo distributore di amici e conoscenti ma anche di persone insospettabili. Ringrazia poi appunto tutti coloro che hanno dimostrato questa solidarietà ma soprattutto dice la mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare l'appoggio. Potrò rientrare in consiglio comunale soltanto dopo la sentenza di appello. Scrive quindi si continua l'attività politica ma con altre forme e con altre situazioni. E proprio sulla sentenza di primo grado appunto della vicenda Coingas e Multiservizi arriva la posizione di Italia Viva e Azione. Sentiamo. Azione e Italia Viva Arezzo sono due partiti garantisti e pertanto non riteniamo opportuno esprimere giudizi sulla sentenza di primo grado sul caso Coingas Multiservizi SRL. Inizia così un comunicato stampa dei due partiti sulla vicenda giudiziaria che ha visto condannare in primo grado a tre mesi il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per favoreggiamento. La giustizia deve fare sempre il suo corso, ci sono altri due gradi di giudizio, prosegue il comunicato ma per qualcuno azionare la macchina del fango è sempre più spontaneo e naturale. Detto questo i due partiti danno poi però un giudizio politico negativo sull'amministrazione targata Ghinelli in questo secondo mandato scrivono è stata completamente latitante con una scarsa presenza nelle attività amministrative della nostra città e con una colpevole assenza nelle scelte provinciali e regionali riguardo le società partecipate. Azione e Italia Viva Arezzo si auspicano che alla luce della sentenza Ghinelli e la sua maggioranza vogliano finalmente intraprendere un'attività incisiva con scelte chiare e determinate sui vari temi che in questi anni sono stati riposti nel dimenticatoio. Da ora in avanti Ghinelli non ha più alibi, non può accampare scuse, ci aspettiamo che a più di due anni dall'inizio del secondo mandato inizia a risolvere i tanti problemi che tormentano questa città. La tragedia di Cutro, tante morti innocenti, lutto anche di bambini non possiamo tacere. Il Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca con un post sui social parla della strage di persone avvenuta appunto a Cutro nella costa crotonese lo scorso 26 febbraio. 200 immigranti che dovevano arrivare in Italia soltanto in 80 si sono salvati tra le vittime molti bambini e ci sono ancora tanti dispersi in mare. Dove sei umanità? Si chiede il Vescovo. Dove sei Europa? Dove siamo noi e dove sono io? Per questi nostri fratelli la mia preghiera è quella di tutta la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e l'auspicio, dice il Vescovo, che da parte di tutti vi sia la consapevolezza e la determinazione nell'evitare in futuro tragedie come queste. Arezzo in queste ore ha detto addio a Claudio Viti, padre dell'Arci e migliore espressione della società civile, così ha detto ai nostri microfoni Giuseppe Giorgi nel ricordarlo. Sentiamo. Volontario, presidente, consigliere, padre nobile, questo è stato Claudio Viti per l'Arci di Arezzo e non solo per l'Arci ma per tutto il mondo associazionistico aretino. Con i suoi saldi valori, la sua instancabile tenacia, la sua estrema generosità ha sostenuto il terzo settore aretino mettendosi in prima linea sempre e comunque in difesa dei più deboli. Con queste parole, l'associazione aretina ricorda uno dei suoi padri fondatori, scomparso prematuramente dopo aver combattuto una lunga battaglia contro una malattia in queste ore, l'ultimo addio. Tanti ricordi in queste ore, queste le parole di Giuseppe Giorgi, presidente onorario dell'Eacli e da poche ore membro dell'Assemblea regionale del Partito Democratico. E' stato un grande democratico, una persona che con me ha iniziato nel 1985, io ho scritto qualcosa in queste ore su Claudio, voglio ripeterlo qui ad Arezzo TV. Nel 1985, giù di lì, andai alla sala del dopolavoro ferroviario. Era la prima volta che un presidente provinciale, io molto giovane, andava a un congresso delle arci. Allora, in qualche modo, anche le arci venivano considerate due associazioni nemiche, uso questo termine. Arriva in il silenzio dei delegati, mi accolse con stupore un altro grande presidente, fondatore dell'Arci, Fedele Polverini e il sorriso accennato di Claudio Vitti. Parlai e il silenzio dei delegati si sciolse in un lungo applauso alle mie parole. Da lì iniziamo con Fedele Claudio un lavoro comune per l'associazionismo democratico a Retino. Fu un lavoro in cui Claudio è stato l'espressione della migliore società civile a Retina. Per questo voglio ricordarlo, io vi ringrazio, è stato un militante, un volontario come hanno scritto le arci oggi, ma anche un grande dirigente del movimento democratico di Arezzo. Ciao Claudio. Appena un anno per dirsi addio, così la nuova normativa sui divorzi. Noi abbiamo sentito un esperto, un avvocato ovviamente, in merito a questa novità. Meno di un anno per dirsi addio. Dal primo marzo è infatti entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia voluta dall'ex ministra della giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia, ed anticipata di quattro mesi dal governo Meloni. La data inizialmente prevista era infatti il 30 giugno 2023. L'obiettivo della riforma è dunque quello di accorciare notevolmente i tempi sul divorzio dai attuali tre anni a meno di uno. Nella domanda di separazione giudiziale può essere anche fin da subito inserita la domanda di divorzio. Occorre comunque precisare che perché la domanda di divorzio diventi procedibile devono trascorrere sei mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza di separazione. Altre novità importanti sono dovute all'allegazione dei documenti che, oltre alle denunce dei redditi dell'ultimo triennio dei coniugi, prevede anche di allegare la documentazione comprovante diritti reali su immobili o beni immobili registrati, estratti conti bancari, nonché un piano genitoriale nel caso che siano presenti figli minori. Dubbi e perplessità sono stati però sollevati da più parti sulla fattibilità dell'iter alla luce delle mancanze in organico del personale nei tribunali. La carenza di organico negli uffici giudiziari, ahimè purtroppo, è una situazione cronica. Speriamo anche, grazie al PNRR, che queste lacune, queste carenze di organico vengano, se non colmate del tutto, drasticamente ridotte per un miglioramento del servizio giustizia a beneficio della cittadinanza. È cardiopatico e cerca famiglia. Parliamo di un cagnolino, un Jack Russell, che in questo momento è in affidamento allo scudo di panna. Sentiamo. Lui è Monkey, un cucciolo di Jack Russell di appena tre mesi e adesso ha bisogno dell'aiuto di tutti. È un canino di un allevamento che ha una cardiopatia abbastanza grave che va operato prima possibile. A prendersi cura di lui lo scudo di panna, l'associazione animalista retina che da anni accoglie gli animali più sfortunati. Abbiamo già fatto due cocuori per capire la gravità della cosa e si spera che la prossima settimana ci diano questo famoso appuntamento per farlo operare. Da qui la raccolta fondi per sostenere le spese dell'operazione. Molto impegnativo e molto costoso ovviamente perché ci vuole tutta un'equipe di veterinari, dall'anestesista al chirurgo e ai aiuti del chirurgo. Chi vorrà dare una zampa a Monkey potrà farlo con una donazione all'associazione. C'è bisogno dell'aiuto di tutti perché Monkey non ce l'aspettavamo. È arrivato tra capo e collo, diciamo così come capita nelle associazioni. E abbiamo fatto, stiamo facendo una raccolta fondi per fare questa operazione, per farla al prima possibile e per vedere che vada tutto bene. Poi verrà cercata una famiglia pronta ad accoglierlo, ma sarà necessaria un'adozione consapevole. Cercheremo una famiglia consapevole di quello che sta subendo Monkey, di quello che ha avuto, gli racconteremo tutta la storia e come dovrà essere tenuto. Quindi va rispettata la patologia che ha avuto. E adesso parliamo invece di questo fine settimana. Come sappiamo torna ad Arezzo la fiera antiquaria. Allora in occasione di questo ci sarà l'ingresso gratuito alla Casa Museo Bruschi e poi anche iniziative per l'8 marzo. Partiamo appunto da questo fine settimana. Domani, sabato 4 marzo alle 16, sarà presente all'interno della Casa Museo Rita Scartoni, responsabile licensing e progetti della Fondazione Alinari, per la fotografia e curatrice della mostra, la sottilità dell'aria Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari. Mostra che peraltro, visto il suo successo, è stata prolungata fino al 4 di giugno. Domenica 5 marzo invece ingresso gratuito come in tutti i musei d'intesa San Paolo in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese. Sarà possibile visitare anche la mostra, le banconote della Shoah Storie di Denaro nei campi di concentramento. In occasione poi della giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì 8 marzo, la Fondazione Ivan Bruschi offrirà a tutte le signore l'opportunità di visitare la Casa Museo a prezzo ridotto. Torna in questo fine settimana l'iniziativa dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, bentornata a Gardenzia. Sarà infatti possibile acquistare gardenia e urtenzia proprio per sostenere la ricerca appunto contro la sclerosi multipla. Ci saranno ovviamente piazze anche nel territorio aretino. E siamo adesso allo sport, iniziamo dai motori. Proprio di questo appunto si parla in un libro presentato in occasione dei 100 anni dell'Aci. Far vedere uno spaccato di costume aretino di 50 anni di un periodo dove la protagonista è la macchina. Oltre la macchina è la città. Vedere le macchine in piazza Grande, il parcheggio in piazza San Francesco, altri, la Topolino che gira da sola, isolata, in piazza Guido Monaco. Sono veramente delle immagini emozionanti. L'Aci ripercorre la storia della città. 100 anni di storia dal 1923 al 2023 proprio con l'ottica di ripresentare quella che è stata la città di Arezzo non solo in quelli che sono gli aspetti immobiliari, quindi le case, i palazzi e quant'altro, ma anche con le auto. Quindi noi abbiamo voluto anche ripercorrere qua, all'interno della nostra sede, una mostra fotografica che riporta Arezzo che mette al centro l'auto nel panorama storico di Arezzo. Presentate oggi anche un'altra grandissima novità. Sì, abbiamo forse l'unica opera che riunisce tutta la storia del motorsport in provincia di Arezzo perché i 100 anni di là ci sono anche lo sport automobilistico, le auto, le tantissime gare che in tutta la provincia si sono susseguite negli anni, alcune oggi ancora ci sono, altre purtroppo si sono perse nel corso degli anni, ma ne mantiene in memoria appunto questo bellissimo libro nel quale viene proprio ripercorso tutta la storia e i protagonisti insieme ad interessantissime foto. Sì, sì, c'è un po' di tutto della nostra vita di quel periodo, quello che siamo riusciti a organizzare in quel periodo, a livello specialmente di quando sono capitati qui i rally mondiali ed europei. Quindi ci sono dei racconti anche nostri personali, ma coprono tutto l'arco del motorismo storico dal 1896 fino al 2020. Nel libro si chiamano proprio gli anni d'oro 80 e 90 quando con Claudio, con Piero Comanducci e con Andrea Olivia abbiamo portato ad Arezzo il rally mondiale di Sanremo con tutti i campioni più importanti del mondo che stavano qui anche un mese, 15 giorni, 3 settimane per fare le ricognizioni e quindi ci permettevano di frequentare, di diventare amici. Racconta invece un ex numero uno a Maranto il libro sul portiere Giuliano Giuliani. Nasce tutto da una lettera che io ho scritto in terza elementare nella quale scrivevo dove volevo essere come Giuliano. Era il mio idolo, era il portiere del Verona e quindi tanti anni dopo sono andato alla ricerca sulle sue orme della sua vita. Non volevo che lui venisse ricordato con la malattia, non credo che lo meritasse e ho cercato di ricostruirne la vita senza farne un santino. Tiro di Bredi, respinge Giuliani, riprende Scarafone e ancora il portiere devia. Paolo Tomaselli ha così deciso di raccontare la vita di Giuliano Giuliani nella sua ultima fatica letteraria. Il libro è stato presentato anche ad Arezzo in una sala piena dell'arbitro club. C'erano i suoi compagni di squadra, gli amici, i familiari e i tifosi dell'Arezzo ma anche chi non lo conosceva e voleva saperne di più della storia di un atleta straordinario ma la cui vita ha avuto un epilogo drammatico. Sicuramente gli anni d'oro, dell'esplosione, Arezzo, Como, gli anni della consacrazione a Verona e Napoli, le vittorie e poi sicuramente gli anni bui, della malattia nella quale però lui ha cercato di... ha giocato a lungo, malato e anche dopo l'infortunio che poi gli ha fatto interrompere la carriera ha cercato di rimanere attaccato al calcio fino all'ultimo e lui fino a cinque giorni prima di morire è dentro uno stadio come osservatore. questo per dire l'attaccamento che aveva verso questo pallone, verso questo campo che è stato tutta la sua vita. da lui si rompe il ginocchio la prima di Serie A nel settembre 92 è già malato non accetta il fatto di smettere così fa 40 giorni di allenamenti militari per provare a giocare col crociato rotto e si sottopone a delle sedute di massaggi, di allenamenti massacranti va a un centimetro da ritorno in campo in Serie A e si fa male ancora al ginocchio in allenamento e lì finisce tutto ma quei 40 giorni secondo me dicono tanto di Giuliano più di tante altre cose la sua forza d'animo il suo attaccamento quasi feroce, animale al calcio e alla vita. L'evento di Zenzerov è stato preceduto dalla visita al Museo Maranto che per l'occasione ha obagiato la memoria di Giuliani dedicandogli un intero spazio allestito con le tante foto che lo stesso museo conserva. Domenica prossima alle 18 l'Amen scola basket Arezzo sarà impegnata sul parquet del Palasport Pertini contro il Bama Alto Pascio dopo la sconfitta di stretta misura con la Virtus Siena l'Amen si trova di fronte un avversario che nell'ultima gara casalinga si era sbarazzata di Agliana per poi giocarsela fino alla fine in trasferta contro la capolista Prato miglior marcatore della squadra guidata da coach Pistolesi e Salazar con oltre 14 punti realizzati per partita insomma una sfida davvero importante e anche piuttosto ostica per gli Amaranto ed infine entra invece nel vivo in questo fine settimana ad Arezzo la stagione agonistica 2023 per quello che riguarda i rally con il rally delle Valli Aretine il campionato italiano rally autostoriche serie che ha avuto in Angelo Lombardo e Roberto Consiglio e i vincitori del 2022 partirà dunque dalla Toscana per i due la rincorsa al nuovo titolo nazionale è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia e attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti